Questo è il dischetto di Penguin Adventure, ovvero una megarom sprotetta, alla quale ci ho fatto su che necessitano di 256k, inserisco il dischetto, accendiamo e aspettiamo il caricamento. Il caricamento rimane bloccato, si può notare i drive, luce accesa, il caricamento rimane bloccato perché il gioco appunto necessita di 256k e l'M6X2 di base, l'8280, ne ha solo 128k. Spegniamo la macchina, una vecchia memory mapper da 1MB, la inseriamo, riaccendiamo la macchina, inizia il caricamento, pochi istanti ancora, ecco, il gioco funziona perfettamente, non ho impostato la 60Hz giusto per comodità. Come vedete tutto funziona, il gioco è stato caricato interamente nella memory mapper di sistema. Ora, facciamo un'aggiunta. Questa, la potete vedere, è la vecchia mega flash rom, quella che contiene solo una flash rom di, se non sbaglio, di un mega. un chip sonoro SCC e basta. Questa è la vecchia cartuccia, era legata al drive e io la inserisco adesso nell'M6, insieme alla memory mapper. Questa non è, non fa da espansione di memoria. Accendo la macchina. Per questa cartuccia abbiamo creato una multi rom in modo da scegliere alcuni titoli principali, ma in realtà lo sfrutto per passare ai 60Hz, come potete vedere. premio il tasto ESC e ritorno al BASIC dove il dischetto di Penguin Adventure viene caricato. come vedete tutto ok, per questo caso l'ho messo anche i 60Hz. tutto già funziona perfettamente, anche più veloce. vabbè, 60Hz si fanno vedere. ok, adesso rimuoviamo l'espansione di memoria. rimuoviamo la vecchia micro flash roll. e inseriamo quella nuova. come vedete c'ha anche il lettore SD. si, non c'è molta luce ma penso che si è capito. inserisco nella slot 1. secondo le istruzioni di Manuel Pazos, per avviare la macchina senza avviare il multimente, il sistema operativo multimente, se la cartuccia si trova nella slot numero 1, bisogna partire premendo, tenendo premuto ESC e tasto R, in modo da andare direttamente in BASIC con le funzionalità però della mega flash roll. proviamo. ecco, siamo partiti direttamente dal BASIC, il dischetto sta caricando. ecco, come potete vedere la macchina si blocca. questo è un problema che si dovrebbe comunicare a Pazos, perché ci sono molti problemi che il firmware crea. ok ragazzi, alla prossima.